Giovanni Mangione della sagra si è svolto un evento organizzato da Risto World Italy, sagra del carciofo di Niscemi, hai preparato e coordinato una torta a forma di Sicilia, come poi vedranno i nostri amici nelle immagini che andranno nella tua impressione. Di cosa si tratta? Si tratta che era la saga del carciofo dove l'associazione Risto World mi ha invitato con molto piacere sia a me che anche a un mio carissimo collega Lillo De Fraia a preparare questa bellissima torta, una torta dove aveva avuto anche un gran successo perché era anche una forma di Sicilia e siamo stati là presenti a coordinare anche i lavori delle ragazze che fanno parte del Checchi Design, che anche fanno parte dell'associazione. Quando eravate Giovanni? Quante persone coordinavi? Ma penso che eravamo una trentina perché c'era magari chi ci aiutò a fare la torta, chi a fare la crema, a fare la ricotta, chi montava la panna, comunque è stato anche, oltre a fare la torta, è stato anche un bellissimo show, no? Deve fare tutta dal vivo, è stato uno spettacolo veramente molto bello. Perché noi abbiamo usato circa quasi 25-30 placche di panna di spagna, poi abbiamo usato anche della bagna al limongello quasi 20 litri, poi abbiamo usato tra un 150 kg tra ricotta, crema e un 10-15 litri di panna, comunque Supergio facendo un conto così, tra le decorazioni e tutte altre cose, circa 250 kg. Quanto tempo avete lavorato? Il tempo dico che è un'ora e mezza, due ore, due ore perché già avevo, cioè almeno io avevo fatto già un progetto già dall'inizio, quindi tu vai là, non è che lavora a caso, già c'è un progetto ben preciso, quindi non eseguiamo i miei lavori. Il prossimo appuntamento, perché vedo che sei sempre super impegnata a preparare queste torte, mi dicevi poco fa a Microfoni Spendi che hai rifiutato un programma alla RAI. No, è stato al di fuori che ho fatto 3-4 dirette RAI, in cui al di fuori c'è un programma vita in diretta, che eravamo noi pasticceri contro i cuochi del nord, abbiamo fatto le sculture, ognuno faceva la scultura di cioccolato, io ho portato il Tempio dei Dioscuri, in cui ne ho fatto parlare, è veramente molto bello. Poi qualche anno fa, nel primo programma televisivo, il più grande pasticcere, all'epoca io fu selezionato in tutta la regione della Sicilia, perché ripetono una persona per ogni regione, e siccome all'epoca ho vinto un bel po' di concorsi, loro collegandosi su internet hanno scelto me, e sono andato a Roma a fare il provino. Dimmi una cosa, perché tu non eri in una pasticceria? E io non gelò, non gelò perché sono molto imbegnato, preferisco essere un po' più un libro, però sicuramente il prossimo anno qualche cosa la farò.